Il derby Veneto tra i campioni d'Italia del Verona e la neopromossa Vittorio Veneto va alla squadra di Longe e Gallescaligere. Continuano la rincorsa al primo posto. Verona che deve fare a meno tra le altre, anche di Oxstrom, reduce dall'intervento al piede. L'intervento è andato molto bene, non ho neanche dolore, quindi volevo stare qua e aiutare la squadra in modo mio. La prima occasione per il giallo-blu con Tatiana Bonetti, gran botta di poco alatto. Sul cambio fronte, Cisotto potrebbe involarsi verso la porta avversaria, ma perde l'occasione. Bonetti ci prova dal limite, ma manca la precisione. Dopo tre occasioni, Tatiana Bonetti non sbaglia, la numero 10 raccoglie la corta respinta della difesa del Vittorio Veneto. La palla resta in aria, conclusione imprendibile per Reginato, gran gol che sblocca la partita. Dovevamo concretizzare subito, non solo facendo un gol, ma penso di più, perché le occasioni ci sono state. Se non le sfrutti va in difficoltà. Anche Fuseli ci prova con una girata al volo sul cross dalla destra, palla alta. C'è anche il Vittorio Veneto che in sequenza con Mella, Zanone e De Martin chiama in causa Erison, che si fa trovare sempre pronta. Bonetti è la più attiva, a conclusione che non trova l'incrocio per poco. E poi colpisce una traversa dopo una deviazione di un difensore. Prima del riposo, Cisotto non riesce a mettere forza favorendo l'intervento di Erison. Abbiamo abbassato troppi ritmi nel primo tempo e comunque ritornare in campo secondo tempo con l'1-0 non è mai facile. Loro infatti, devo dire, sono scese in campo molto determinante. In apertura di ripresa Pirone riconquista palla e serve Bonetti che conclude a botta sicura. Virgili salva. Sul cambio a fronte il Vittorio Veneto trova il gol del pari con Giorgia Cisotto, con un preciso rasoterra che non lascia scampo a Erison. Dopo l'1-1, dopo aver comunque tenuto un po' la partita sulla qualità, io ci avevo creduto, ci avevo creduto che forse era la partita in cui un pizzico di fortuna con un bel gioco che comunque abbiamo dimostrato ci permettesse di portare a casa questi punti che ci servono tanto. Il Verona ha l'occasione per tornare in vantaggio quando il direttore di gara assegna il rigore per il fallo di Mella su Bonetti. Sul dischetto si presenta la stessa numero 10, Reginato e Superlativa, respingendo la conclusione. Reginato sembra insuperabile con un altro grande intervento salva risultato. Il Vittorio Veneto sogna il colpaccio quando Cisotto scappa via e si presenta davanti a Erison, che salva il risultato con una grande parata. Di Criscio su punizione, gran botta di poco alato. Il Verona preme e il 32esimo trova la rete del nuovo vantaggio con Michela Ledri, che conclude l'azione siglando il gol del 2-1. Grande gioia per la giocatrice del Verona. Le padrone di casa, due minuti dopo, chiudono la sfida con Silvio Fuselli, che trova una deviazione decisiva sul cross, e la palla termina in rete battendo Reginato per il 3-1. L'ex giocatrice della Torres trova la doppietta quando segna il gol del definitivo 4-1, con un tiro cross che assume una parabola incredibile che batte Reginato sul palo lontano. Bisogna essere comunque contente, nonostante la prestazione forse non sia stata delle migliori, perché i ritmi sono stati troppo bassi, soprattutto nel primo tempo, e quindi siamo stati troppo spesso prevedibili. Il Verona vince e resta in scia del Brescia, aggancia il secondo posto e il Mozzanica, in attesa del big match contro la squadra di Milena Bertolini. Ma non abbiamo fatto una grande partita, effettivamente l'abbiamo sbloccata nel finale, anche se avevamo avuto tante occasioni, abbiamo preso una traversa, abbiamo sbagliato un rigore, però abbiamo giocato Maluccio e il Vittorio Veneto ci ha messo spesso in difficoltà. Rimane il rammarico che nel primo tempo abbiamo sbagliato 2-3 occasioni a gol mitide, contro un Verona che secondo me è un po' il di sotto delle sue qualità, perché sa secondo me soprattutto spingere a giocare, ha abbassato un po' il ritmo, noi ne abbiamo approfittato, abbiamo cercato in contropiede, abbiamo rischiato 2-3 volte di far gol, dopo chi sbaglia paga.